Non ci sono aggettivi per descrivere la disfatta della pergoletese a Villafranca, una squadra molle deconcentrata rinunciataria senza grinta che commette errori banali ed imperdonabili. Tatticamente Venturato ha insistito sui due trequartisti Manzoni e San Giovanni insieme e il risultato ancora una volta è stato pessimo. Il Pergo ha subito tre gol da calci da fermo con la difesa incredibilmente immobile e attaccanti in area liberi di colpire senza opposizione. Difensori cremaschi messi in difficoltà dalla tattica dei veronesi che saltavano il centrocampo con la palla lunga su Vitecalì che con la loro velocità hanno sempre messo in crisi patrini e compagni. Esordi amaro per Zanoni che pur non facendo peggio degli altri non ha certo brillato per solidità. Anche in attacco i gialloblù sono stati pessimi, infatti nei primi dieci minuti due occasioni limpide con tiri da 12 metri a porta spalancata, ma Zoni e Tacchinardi hanno sprecato tirando alto. Non c'è nulla da salvare nel disastroso pomeriggio dei gialloblù con i tifosi inferociti che alla fine hanno spettato i giocatori ed il tecnico per un duro confronto su quanto accaduto. Dopo un risultato, ma soprattutto una prestazione come quella di ieri, anche la panchina del tecnico gialloblù potrebbe scricchiolare, ma le voci filtrate dagli spogliatoi sembrano dargli ancora fiducia. Una riflessione va fatta anche sui giocatori a disposizione di Venturato, cui sembrano mancare chili e centimetri, ma anche tecnica e capacità tattiche e non ultimo solidità psicologica nei momenti difficili. Con questa sconfitta la pergolettese dice definitivamente addio ai sogni di vittoria del campionato, anzi deve incominciare a guardarsi le spalle per tenere lontano la zona play-out. Settimana prossima il pergo riposa, quindi una lunga pausa per riflettere sul periodo nero, anche se forse non è un bene per la squadra.